Eccoci qua, scusate l'inconveniente. Abbiamo avuto problemi tecnici di connessione e quindi insomma questo è successo, non riusciamo questa mattina a farvi vedere in video i quotidiani. Adesso vi leggerò così qualche notizia, la commenteremo insieme. Intanto saluto e ringrazio l'ospite di questa mattina, storico e ricercatore di Civitella del Tronto, Giuseppe Graziani. Buongiorno Peppe, buongiorno. Grazie per l'ospitalità. Grazie, grazie a te per aver accettato il nostro invito. Tra poco con lui parleremo, come vi ho detto in apertura, soprattutto del campo di concentramento che c'era a Civitella del Tronto, visto che ci approssimiamo domani. È il giorno della memoria. Intanto Peppe, insieme a te commentiamo i giornali così li raccontiamo un po' ai nostri amici telespettatori, scusandoci ancora perché non vediamo i titoli in video. Allora, la prima pagina del centro, papà di due bimbi muore di Covid, purtroppo questa brutta notizia, originario di Martinsicuro, 41 anni, viveva a Sant'Egidio alla Vibrata, non era vaccinato. E poi, quello che vi dicevo prima io, cercando di guadagnare tempo, Omicron frena in Abruzzo, picco alle spalle, ma gli ospedali restano pieni, anche se sì, anche in tutta Italia si è stabilizzato il numero dei ricoverati in terapia intensiva. Poi la cronaca a Tortoreto tentò di uccidere la sua ex, pena ridotta, a sette anni. Il titolo che riguarda il dottor Roberto Petrella, che è stato arrestato l'altro giorno, il giudice dice su Petrella è pericoloso, il medico Novax arrestato perché poteva far morire altri pazienti di questo. E' accusato a Teramo, ce ne siamo occupati qualche giorno fa, il cambio nel palazzo di governo, alla prefettura, Deprisco che dice attenti alla malavita, ha lasciato il prefetto, il commiato del prefetto. Resto legato a questo territorio. Dunque questa è la prima pagina del messaggero, poi all'interno ovviamente il centro dedica le quattro pagine, sempre all'emergenza coronavirus. Omicron frenano i contagi, 4 mila in meno dopo le feste e quindi c'è una frenata dei contagi. Ma gli ospedali sono pieni, l'esperto dice calo tra dieci giorni. Il tasso di occupazione dei posti letto è ancora oltre le soglie da zona arancione, il primario Grimaldi, i pazienti più gravi sono quelli senza copertura vaccinale. E poi le elezioni del Presidente della Repubblica, la corsa al Quirinale, oggi la terza votazione, letta boccia la terna di Salvini, nessuna apertura da parte dei DEM a Moratti, Pera e Nordio, vertice con Conte e Speranza. Quindi la terna e Moratti, Pera e Nordio, comunque poi c'è stato il vertice, la tentazione Casellati, alta tensione a sinistra. E poi per tornare ai titoli di Casa Nostra ve ne leggo alcuni. Nuovi macchinari intanto al Mazzini, via i lavori per la PET, in corso l'installazione della seconda risonanza, dunque nuovi interventi per quanto riguarda il nostro ospedale Mazzini a Teramo. Deprisco, addio con commozione, il prefetto che lascia, attenzione però, alta alla criminalità. Per i parcheggi a Teramo, il tavolo di confronto sosta in centro, si studia il piano, costi bassi per le prime due ore. E poi vediamo un altro titolo, ecco siamo proprio a Civitella del Tronto, pioggia di fondi, quasi due milioni per la fortezza, strade e campo sportivo. Caro Peppe arrivano dal piano nazionale di ripresa, il PNRR che in effetti sta elargendo fondi tutta l'Italia. Verrà migliorato l'accesso al monumento per far entrare anche i disabili, il monumento ovviamente, la fortezza di Civitella. E poi un titolo da Mosciano in questo caso, gestione rifiuti, biometano estratto dall'organico, l'impianto operativo entro l'anno a Mosciano Sant'Angelo. E poi un titolo da Roseto, comune il consiglio sui conti per il 2022, c'è il via libera al bilancio, più fondi per il personale. A Silvi, nuovi spazi per vigili e volontari, una struttura strategica, via libera ai lavori nel multipiano, i locali rimessi a nuovo dell'impianto riservato, ospiteranno le sedi di polizia locale e protezione civile. Questo per quanto riguarda appunto un intervento da realizzare in quel di Silvi. Vi do un paio di titoli per lo sport, così per gradire. Il Pescara, il calcio di Serie C, assalto a Bocalon, il Vicenza propone Longo. E invece il Teramo, il mercato Mungo saluta il Teramo. Oggi il centrocampista passa alla Viterbese, la Mezzala lascia i Biancorossi dopo due anni e mezzo. Per l'attacco si punta su Cuppone del Cittadella. Dunque, così è un'infarinata dei titoli per quanto riguarda il centro. Prima sul Messaggero, vi avevo letto i titoli della prima pagina. Vi leggo quelli principali della pagina di Teramo e quella relativa alla provincia di Teramo. Allora, l'apertura della pagina di Teramo, il Messaggero riguarda la vicenda legata al dottor Roberto Petrella, il ginecologo Novax, vaccini realizzati con scarti di animali. Roberto Petrella, gli arresti per la morte di un paziente, frasi shock nell'ordinanza cautelare e nelle varie interviste rilasciate. E poi la cronaca, i ladri tornano all'assalto delle case, cinque furti in una sola giornata tra le abitazioni svaliggiate. A Teramo c'è anche quella di una consigliera comunale. Le zone pericolose. E poi a Teramo sono 60 i poveri in città, il comune stanzia i fondi per gli affitti. A Giulianova, dall'ex depuratore, non ci muoviamo, parla Davide Macera, leader del campetto occupato. Di sicuro proveranno a cacciarci, ma noi resisteremo. Qui abbiamo fatto tante cose positive, stiamo salvando questa struttura da una grave situazione di degrado. Poi anche il messaggero rende noto che si è registrata questa vittima a Martinsicuro, stroncato dal virus a 41 anni. Samuele non era vaccinato, l'operaio era papà di due figli piccoli, oggi salardenti a Dio. Una vera tragedia. E poi la messa in sicurezza del sistema Gran Sasso, sicurezza del sistema idrico. I commissari hanno firmato il progetto e poi velocemente lo sport anche per il messaggero. Il Pescara, il calciomercato, stringe sul bomber longo. Il Teramo cambia pelle, trattative frenetiche. Mungo, come vi dicevo, andrà alla Viterbese. In bianco rosso arriva Simonelli, si tratta per l'attaccante Cuppone, ma c'è ancora da sfoltire. Bene, allora diciamo che è tutto per questa rassegna stampa in emergenza. Adesso, caro Peppe, prima di cominciare la nostra chiacchierata, lo faremo subito, andiamo a seguire come ogni mattina, qui a Di Pria Mattina, le previsioni del tempo, che sono sempre importanti, quelle realizzate dal nostro Marco Di Loreto. Dunque, linea Fabio in regia, previsione del tempo e poi torniamo insieme. Buongiorno amici di Super J, la circolazione fredda balcanica è ormai lontana dall'Italia e l'anticiclone è tornata ad essere protagonista in tutta la penisola da nord a sud e lo sarà fino a domani, prima dell'arrivo di una nuova saccatura artica tra venerdì e sabato. Intanto, la stabilità atmosferica garantirà tempo soleggiato ovunque, fatta eccezione per la nebbia notturna presente in pianura padana. Attenzione anche alle inversioni termiche, che favoriranno temperature molto rigide durante la notte, soprattutto nei fondovalle. In Abruzzo nessuna novità rispetto a ieri, con il tempo soleggiato in tutti i settori e per tutto il giorno. La ventilazione sarà di deboli intensità e di direzione variabile ed il mare calmo o quasi calmo. Le temperature massime di giornata saranno in aumento rispetto a ieri, con valori compresi tra 7 e 10 gradi. Continuerà a fare molto freddo la notte, quando i valori scenderanno sotto lo zero, anche in zone collinari, valori compresi tra meno 4 e 5 gradi. Buon mercoledì a tutti voi. Eccoci qua allora che rientriamo per aprire la nostra chiacchierata con Giuseppe Graziani, ricercatore storico di Civitella del Tronto. Visto l'approssimarsi, domani è il giorno della memoria, abbiamo voluto con Peppe Graziani focalizzare l'attenzione su questo periodo a Civitella del Tronto, quando il regime fascista istitui, creò, dei campi di concentramento, di internamento, anche in Abruzzo, una quindicina se non ricordo male, e alcuni, non pochi, in provincia di Teramo, ben 8, è uno di questi a Civitella del Tronto come centro di campo di internamento. Intanto inquadriamo un po' il periodo storico, perché scelsero l'Abruzzo con ben 15 campi di internamento? Perché il governo fascista istitui proprio qui i campi di concentramento? L'Abruzzo è un regione evocata, ma non è assolutamente così. Diciamo che le direttive del Ministero degli Interni, che era responsabile di questa politica, davano queste indicazioni, impervietà dei luoghi, scarsa politicizzazione della popolazione, assenza di zone militarmente sensibili, però a fronte di questa stella polare, chiamiamola così, a cui gli ispettori, nell'individuare le zone, le località e gli edifici eventualmente da edibire a campi, io la trovo insufficiente. Cioè, volendo guardare oltre, possiamo dire innanzitutto, per esempio Civitella, per stare a casa di Civitella, fu preso incredibilmente, fu usato incredibilmente anche il adibito a campo di concentramento a una delle tre sedie, perché poi cominciamo a dire che il campo di Civitella è uno tre partito, quindi tre distinti edifici tra loro disconnessi, ma la direzione è unica, quindi parliamo di un campo di concentramento. Dicevo che fu preso in affitto un'abitazione privata e poi fu usato anche il convento mariano di Santa Maria dei Lumi, nonostante le reiterate proteste dei frati che naturalmente… Che c'erano all'epoca, sì. C'erano, c'erano i minori conventuali che ci sono ancora oltre. Senza soluzioni di continuità. Quindi, diciamo che… Ricordo che lì a Santa Maria dei Lumi l'anno scorso ci fu la somministrazione dei vaccini o si facevano i tamponi? Sì, anche io. Esatto, proprio lì a Santa Maria dei Lumi conobbi il priore, il rettore. Il superiore. Il superiore, esatto. E quindi, diciamo questo, in buona sostanza sembrano queste indicazioni non sufficienti. volendo leggere un po' oltre, diciamo che ha giocato forte a Civitella e nelle altre località, che poi le possiamo anche nominare, ha giocato l'affidabilità delle gerarchie del posto, che hanno giocato un ruolo importante. Io credo che ieri abbiamo fatto anche delle immagini, vero, a Civitella del Tronto. Poi, Fabio, quando vuoi le puoi mandare in onda così. Sì, ma cosa puoi passare. Ecco, ecco, qui dove siamo? Allora, qui siamo, mi sembra, ecco, siamo a Santa Maria dei Lumi, l'antico convento, santuario dedicato a Santa Maria dei Lumi. Arrivarono i primi internati il 4 di settembre, si tratta del 1940, il campo dura una durata di 4 anni fino al 25 di maggio del 44. Quindi vengono istituiti dopo l'entrata in guerra dell'Italia, vero? Esattamente, per dura fino anche sotto la Repubblica Sociale. Dicevamo prima… Hai detto fino al 44? 44. Dicevamo prima che i campi erano quelli di Civitella del Tronto, il Corropoli, Isola del Gran Sasso, Nereto, Notaresco, Tortoreto, Tossicia e Teramo Capoluogo, l'unico campo sotto la Repubblica Sociale. Quindi i primi sette sono invece riconducibili… Quindi a Teramo nella fase finale proprio del regime… Teramo è l'unico campo repubblicano, gli altri tutti quanti riconducibili al fascismo monarchico. Allora, da chi era gestito il campo di Civitella? Il campo di Civitella, dunque la direzione era di solito affidata in generale o ai podestà o a personale della pubblica sicurezza. Questo è il caso di Civitella. Si sono alternati in 4 anni una serie significativa di direttori provenienti, pescati tra le fila della pubblica sicurezza, ricordo Gagliardi, Cardinale, Franchi, Franco, Palermo, Mariniello e l'ultimo che poi però dovremmo citare, il dottor De Raffaele. Quanti internati a Civitella? Dunque, questo è un discorso un po' complicato perché bisogna… E soprattutto chi internavano nel campo di Civitella? Dunque, Civitella lo potremmo definire un campo familiare anglo-libico. Può sembrare… Familiare? Anglo-libico, perché fece registrare la preponderante ma non esclusiva presenza di ebrei libici sudditi inglesi. Perché familiare? Cominciamo col dire che l'Abruzzo ha avuto un solo campo femminile che è quello di Lanciano. Però a Civitella c'è questa peculiarità. Siccome il 17 gennaio 1943 il Ministero degli Interni destina a Civitella, anche a Camerino, ma anche a Civitella o Villa Oliveto, Civitella Valdichiana, degli ebrei libici. Quindi sono 28 nuclei familiari, quindi anche con donne e con molti bambini, che sviluppano 107 presenze. Quindi una realtà cospicua. Dicevo, quindi i terminali, diciamo così, sono gli ebrei, ma non esclusivamente, perché considerati equiparati formalmente a nemici stranieri e quindi nelle congiunture belliche, il 10 giugno l'Italia entra sciaguratamente in guerra, nelle congiunture considerate potenzialmente pericolose. Ma questo lo voglio dire però… E non solo loro, le categorie potenzialmente pericolose erano altre. Le categorie poi naturalmente abbiamo dissidenti politici. Sì. Ecco. Però dicevo, furono equiparati formalmente a stranieri, a nemici, ma nella sostanza discriminati a fini di genere razziale, conformemente alla politica discriminatoria prima e del filo spinato messa in campo in essere in quegli anni. Sì, tra l'altro ricordiamo nel 1938 ci fu la promulgazione delle leggi razziali, questa vergogna calamorosa, no? Con tutte le altre. Dicevo, prima mi hai fatto questa domanda, quanti ne sono transitati in quattro anni? Soprattutto, stavano a Civitella oppure quello era, ai noi, anche un centro di smistamento e andavano a finire anche nei campi di sterminio? Ecco, dunque, Civitella ha anche quest'altra, dunque, innanzitutto è una realtà concentrazionaria significativa, sicuramente la più importante, la più cospicua del Terramano, delle otto che abbiamo ricordato. E accade questo, perciò prima facevo riferimento al dottor De Raffaele, che con un tratto di penna incalce ad un documento, è vero che tutti quanti hanno sostenuto, abbiamo obbedito agli ordini, dalla prefettura di Terramo venivano delle sollecitazioni, dobbiamo sgombrare il campo e quindi queste persone, residuali, quelli che in quel momento c'erano, siamo nell'aprile del 1944, vengono mandati a Fossoli di Carpi, fosse una frazione del Comune di Carpi, provincia di Modena, uno snodo principale verso i lacri, una sorta di imbuto di collettore di umanità dolente e da lì, quindi ci sono due spedizioni da Civitella, uno il 18 di aprile, l'altro il 4 di maggio, sempre il 44, che vanno a Fossoli. Poi il 16 maggio, naturalmente non solo i civitellesi, tra virgolette, ma gli altri, vengono inviati verso i lacri, per quanto riguarda i civitellesi, con due destinazioni diverse. Auschwitz e Berge-Belsen. Purtroppo ad Auschwitz 28 di loro morirono. Sì. Prima di allora invece non erano partiti, non avevamo mai lasciato il campo? No, 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 nelle linee altrove. Quindi quando stavamo dicendo dell'ultimo responsabile del campo, che cosa fece? Dottor De Raffaele, che firma questo elenco, che quindi risponde agli ordini, diciamo, della Prefetta. Quindi li manda a morire. Li manda, sapeva perfettamente dove li avrebbe mandati. Parliamo dell'aprile e maggio del 44, quindi sapeva quella che sarebbe stata la loro sorte. C'è questa cosa importante. Io parlavo prima di due diverse spedizioni da fossoli. Una con direzione, lo stesso giorno, 16 di maggio, una con direzione Auschwitz, l'altra invece con direzione Berge-Belsen. Perché Berge-Belsen? Perché Berge-Belsen è un campo terribile, tremendo, però anche adibito in quel momento a scambio di prigionieri. Allora, la condizione di sudditi inglesi salvò la vita di molti di questi internati, in quanto erano potenzialmente utili ad essere scambiati con prigionieri. Per quanto riguarda invece quelli inviati ad Auschwitz, parliamo del trasporto. La trasporto lista è consegnata del trasporto numero 10. che partì da Fossoli il 16 maggio, raggiunse Auschwitz il 23. Parliamo del convoglio che impiegò più tempo per coprire quella tratta. La trasporto lista parla di circa 560, adesso vado sulla memoria, posso sbagliare in qualche unità, persone prelevate nelle varie province italiane, quindi Bologna, Milano, Ferrara, Firenze, Teramo, Macerata, per via del campo di Servigliano e furono immessi al campo, cioè superarono la prima selezione al gas, soltanto 170 uomini e 80 donne. I reduci alla fine, quindi dopo la chiusura del campo, erano 60 soltanto, solo 60 persone. Mentre per buona sorte gli altri mandati a Berge-Belsen, che erano un convoglio numero 11 di 186 unità circa, in maniera preponderante civitellesi, ma anche quelli prelevati a Camerino che erano in internamento libero, praticamente si salvano quasi tutti. Voglio anche ricordare una cosa, che a Berge-Belsen nasce Daniel Burbea, un anglo-olimpico, che era stato concepito sotto le stelle civitellesi. Ah, civitella. Come interagivano i civitellesi, se potevano interagire con questa realtà dolorosa dei campi? Che rapporti c'erano? I civitellesi hanno dimostrato molta solidarietà, non solo i civitellesi, ma anche i civitellesi, molta solidarietà, vicinanza, comprensione, non solo i frati, e devo dire che anche loro, che non hanno mai creato problemi di ordine pubblico, cercarono per quanto possibile di rendersi utili, di ricambiare questo flusso, così, diciamo... Questa è la casa di riposo, all'epoca era un ospizio di umandicità ed era l'edificio che accoglieva più, che internava più persone, ecco, perché diciamo, per esempio, qui c'è stato un momento in cui c'erano 90 internati, 30 invece a Santa Maria e 30 invece alla Casa Migliorati. E questo è un altro sito? Questo è sempre... questo è il campanile perché la casa, questa casa di riposo nasce come convento nel secente del Cappuccini, rimaneggiato, molto rimaneggiato nel tempo. E sono le due sedi dentro Civitella? Dentro Civitella. Santa Maria e Lumi immediatamente fuori Civitella. E dicevo, cercano di rendersi utili in che modo? Per esempio i musicisti ce ne furono di talento, impartivano lezioni ai ragazzi della banda, insegnanti... Ma potevano lasciare? Sì. Cioè potevano uscire? Beh, diciamo questo, che un conto è il documento dove per esempio si dice che ci si poteva allontanare più di mille metri dai piazzali antistanti, poi nella sostanza questa cosa molto dipendeva dal direttore, molto dipendeva anche da loro, dalle condizioni nei vari campi. Quello di Civitella, diciamo così, è stata una realtà dove c'è stata avvicinanza, comunanza con l'integrazione sufficiente con... anche naturalmente qualche voce fuori d'accordo non manca mai perché questo fa parte del... ci furono anche, non solo a Civitella, a Isola e a Canzassi... Che cosa? Lettere anonime che dicevano questi fanno i padroni con i soldi... Questi fanno i padroni, gli internati addirittura? Gli internati, perché gli internati... Cioè come succede adesso con gli immigrati? Esattamente, perché gli internati percepivano... Cioè addirittura alcuni li vedevano come dei privilegiati? Beh, però parliamo di lettere anonime, vennero degli ispettori e verificarono che non c'era niente di questo... di quanto lamentato, insomma, ecco. Dicevi queste storie di alcuni musicisti, ecco qui vediamo... Questo è l'edificio preso in affitto, in affitto per far fronte... Che è un palazzo di Civitella? È un palazzo di Civitella, adesso è... anzi, siccome il terremoto ha creato dei danni anche qui, quindi è messo in sicurezza... E quindi anche qui ci sono stati degli internati? Ci sono stati degli internati, sì. Più piccolo, quindi circa 30 internati. Bene, questo proprio nel cuore del centro storico... Qui siamo proprio nel cuore del centro storico, siamo in prossimità di una delle porte cittadine, porta di Vene. C'è qualche storia particolare, mi dicevi ieri, di un musicista, vero? No, c'è, dunque, ci sono stati persone di grande ingegno a Civitella, ecco, medici, avvocati... Da dove venivano? Da dove venivano? Da ogni parte? Dunque, sono per lo più, dicevamo, ebrei, di varie origini, di varia nazionalità, anche apoli, quindi preponderantemente tedeschi, ma austriaci, russi, ciechi, polacchi. Quindi venivano da fuori Italia anche. Sì, sicuramente, ah, certo. Sì, tutti, quasi tutti... Questi furono arrestati nelle principali città italiane, eh? E poi smistati nei vari campi. Sì, sono chiusi nei vari carceri di Marassi, di San Vittore, di Re Bibbia e loro ricordano abbastanza, in maniera abbastanza univoca, questo primo periodo, questo debutto nel sistema concentrazionale in Italia come il peggiore. Perché? Perché furono inchiusi in delle celle piccolissime, in un gran numero e soprattutto per l'angoscia e il terrore su quella che sarebbe stata la loro sorta. Dopodiché venivano portati nelle stazioni ferroviarie contigue, nel nostro caso a Giulianova e con torpedoni, mezzi della pubblica sicurezza sotto scorta, giungevano nei luoghi... Paradotti nei vari campi. Nei vari campi. E c'è una testimonianza del parroco del tempo di Cimitella, Don Fioravante Nascane, il quale negli anni 70 ha lasciato questa testimonianza scritta, lui diceva giunsero con l'angoscia dipinta nel volto. Poi si rasserenarono, perché pur se c'erano delle guardie armate per montare, voglio, per la sicurezza, si accorsero che non era un lagre. Anche perché c'è da dire che il primo campo ad entrare, il primo edificio ad essere stato fu il convento e i frati si mostrarono solidali, comprensibili, li fecero parlare, li ascoltavano e questo fu già un impatto alleggerito in qualche modo. La refezione, quello che mangiavano, chi curava loro queste... Allora, le disposizioni generali erano queste, che bisognava organizzarsi nelle varie... No, quando questa non era possibile c'era la possibilità di consumare i pasti nelle trattorie locali oppure presso qualche famiglia disponibile. Quindi si andava, quindi potevano uscire per andare a pranzo. Però diciamo che la direttrice principale era quella di organizzare delle mense. All'interno delle strutture. Delle mense a parte delle spese comuni, per esempio con i contadini, ci furono anche lì delle polemiche, ci sono stati dei casi, si parlava per esempio a Nereto, si è fatto cenno... La prima testimonianza dai campi di concentramento fascisti in Italia è quella di una signora Maria Eisenstein al campo di Lanciano dove lei lamenta una sorta di borsa nera, di prezzi portati alle sede perché insomma c'era chi speculava e diciamo questo, il momento era difficile per tutti, siamo in periodo di guerra quindi è difficile per tutti. Lui poi avevano questo aiuto da parte della Croce Rossa Delegazione Svizzera, dei contributi per esempio da parte dell'Inghilterra per gli inglesi, ma diciamo così, i pasti grossomodo erano questi, grossomodo, quindi abbiamo la mattina latte con del surrogato di caffè, a pranzo circa 300 grammi di pasta con fagioli oppure con patate, spesso, di rado quando possibile 100 grammi di carne, poi frutto e a sera ci si organizzava magari anche con delle erbe spontanee per fare delle zuppe, ecco questo, un po' di miele, quanto possibile, naturalmente qualcuno che aveva maggiori possibilità, maggiori facoltà, riusciva ad acquistare, magari anche bypassando le norme annonarie, riusciva ad acquistare qualcosa dai contagiatori. Perché riusciva a muoversi sul territorio, riusciva a organizzarsi un po' di più, questo accade sempre. Allora, storie che ti hanno colpito particolarmente degli internati di Civitella? Beh, più che colpito, diciamo, dunque ce n'è una in particolare connessa alla mia famiglia e quindi questo mi ha, voglio dire, coinvolto, diciamo così, anche indotto a approfondire questo filone. Che cosa è successo? Era successo che io ho perso dietro a questa persona diversi anni. Di ricerche? Sì, di ricerche e spiego perché. Perché trovo un libro con una dedica molto bella a mio nonno, ne posso parlare senza che la cosa mi faccia velo perché è riportata dal professor Carino Gambacorta nella storia di Civitella. Quindi questo mi mette a riparo, in qualche modo, dove gli dà atto della grande solidarietà manifestata, era stato sindaco, era stato avvocato, in altra mio nonno, era avvocato, era stato sindaco di Civitella. In altra, sì, in altra epoca, anteriore. E diceva, firmata con stima, dove lui si dice ospite, non internato, con una bella grafia, Reynold Stahl. Reynold Stahl. Tu leggi questa dedica sul libro. Io ho questa dedica che mi ha colpito, ne volevo sapere di più, nulla nei registri del campo, nulla nei campi vicini. Cioè il suo nome non c'era. Non c'era. Allora dico, io poi ho trovato un fascicolo a casa mia, tra le carte di mio nonno, con delle foto di questo signore, lettere. Mi dispiaceva, anche qualcosa, mi dispiaceva che l'unico di cui avevo, conoscevo anche qualche sentimento, lasciami usare questa espressione, non riuscivo a rinvenire. Ho partecipato a convegno, ho scritto a colleghi. E non usciva nulla. Niente. Poi? Poi, finalmente, tramite l'istoreco di Reggio Emilia, dove mi dicono, guarda, ci sono dei germanisti, perché ci siamo, la faccio più corta, ci siamo applicati a padre. Perché a mio nonno dedico quest'opera del mio compianto padre, modesto segno di altissima federazione. quindi, eh. Il padre era un accademico berlinese di storia dell'arte. Quindi, questo germanisti dell'istoreco di Reggio Emilia mi dicono, devi avere pazienza, io ne ho avuto anni, quindi ci lavorò, ci sono allenato, sono allenato, quindi la pazienza ci ho. Finalmente mi dicono che Stahl era lo pseudonimo usato anche dal papà. E quindi lui, anche per sentirlo più vicino all'interno, che era un critico d'arte, peraltro. E forse questo mi avrebbe anche dovuto, perché critico d'arte c'era solo lui. Quindi questo Stahl era un critico d'arte. Era un critico d'arte. Mi avrebbe forse dovuto mettere un po' in... Però aveva un cognome diverso. No, no. Stahl. 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 E quindi, voglio dire, il vero nome del padre era Lilienthal. Io poi sono andato a vedere Reino Lilienthal. E ho visto purtroppo che era uno dei 28. Che è morto ad Auschwitz. Perché è ebreo? Perché è ebreo? Perché è ebreo, tedesco, e che aveva lasciato a mio nonno questo fascicolo. E quanti anni è stato a Civitella? È stato tre anni, veniva dal campo di concentramento di Monte Chiarugolo, in provincia di Parma, tra l'altro il campo più a nord dell'Italia. E quindi è una storia molto triste che mi ha portato via del tempo. Qui hai delle foto del periodo? Sì. Vediamo se riusciamo a farne vedere qualcuna. Adesso rubiamo qualche minuto. Se le passi a me così le faccio vedere in... Sì. Allora, innanzitutto questa è una famiglia di anglo-libici, famiglia regginiano. Che stavano a Civitella. Stavano a Civitella. Vediamo se Fabio ce la fa a inquadrare. A campo della casa di riporso, diciamo. Quindi era una famiglia. Questi erano internati in tutta la famiglia, come hai detto prima. Ecco, vedete, due bambini. Questo è un comizio, tu conosci Civitella, c'è quel porticato in piazza, no? Lo portiamo, lo facciamo vedere subito. Ecco, un attimo Fabio che prendo quest'altra foto. Prego. Sì. Quindi un comizio, gerarchia a comizio del... in che anno? Questo era... Questo siamo negli anni 40. Sì, sì. A Civitella del Stavano. Sì. Insomma, un'esperienza dolorosissima ovviamente quella dei campi. Sì. E poi se è possibile ti vorrei parlare di un... Vediamo. Allora, ce la facciamo in 3-4 minuti? Sì, la faccio brevissima. Prego. Allora, Civitella è transitato. Anzi, prendo a prestito le parole di Giambiero Mughini in un'intervista rilasciata a Panorama. Michele Finghessen sta alla storia degli ex libris come Papo Picasso a quello della pittura. E ho detto tutto. Cioè, parliamo di un grandissimo... Un autore di ex libris. Un autore collezionatissimo apprezzagissimo. Il quale viene, siccome di mamma, per via materna ebreo, era triestina la mamma, una volta in Italia perché era... si trovava in Germania, viene internato nel campo di Civitella. E qui fa delle cose bellissime. Allora, faccio vedere qualcosa. Io questa cosa la considero preziosa. Questo è un suo, divertissima, un suo autoritratto. Questo qui, lo facciamo vedere alla telecamera. Questo è un suo autoritratto. Sì, e guarda un po' dietro, cortesemente. Ecco, un attimo, facciamo prima vedere. Eccolo qui, l'autoritratto. E lui è al lavoro, insomma, si è disegnato da solo. Giro dietro? Sì. Giro dietro. Io penso che possono essere i numeri partiti a carte. Sì, che giocavano a carte. Ebbè, per passare il senso. E poi ti volevo... Quindi, com'è che si chiama Fi? Michele Fingesten. Michele Fingesten. Ci sono molte sue opere nei musei, il più grande apprezzato ex librista del Novecento. E questo è stato... A Civitella per un anno. Poi trasferito, molto sfortunato perché è trasferito a Ferramonte di Tarsia, in Cosenza, il più grande campo di concentramento fascista, dove assiste alla liberazione del campo, ma muore un mese dopo, dell'ottobre del 1943, per una infezione postchirurgica. Ecco, invece, parlavamo di Reino Stahl, che era un grande studioso, un critico d'arte, e quindi non poteva non intrecciare amicizia con Fingesten, il quale gli fa con mezzi di fortuna rudimentali, e questa è una cosa molto interessante. Secondo me, questo ex libris, addirittura non in bianco e nero, ma non rinunciando al colore, in questo caso al verde. Tra le sigle troviamo il capo di Reino Stahl, che sembra quasi esondare da un libro. Ecco, perché era un grande studioso. Sì, sì. Come li hai trovati questi? Questi li ho trovati nel fascicolo a cui ti facevo riferimento di mio nonno. Esatto. Quindi perché? Perché era di Reino Stahl, gliel'aveva... Che erano stati donati a tuo nonno. Sì. E quindi c'è stato un grande, anche un grande artista. Un grande artista. E questa cosa è, se posso... Questa è un'altra, lo facciamo vedere. Questa è un'altra, ecco, questa è l'originale, io però ho una copia che ti posso illustrare. Allora, in questo cartiglio... Intanto inquadriamo l'originale. Sì, in questo cartiglio... In un minuto vai. Sì, in questo cartiglio, in l'altra a destra possiamo leggere Don Fioravante d'Ascanio, parroco di Civitella, ricordi il decennio del suo sacerdozio 31 luglio 41. Quindi è un ex libris, firmato da Finghese, che lui fa per il parco di Civitella, per il decennale del suo sacerdozio. È una composizione estremamente affollata, molto interessante. In alto troviamo la montagna dei fiori e poi il paese, la silhouette del paese sormontato dai ruderi ancoratari della fortezza. E poi c'è tutta l'iconografia cattolica. Possiamo leggere Omnia per Ipsum, cum ipso et in ipso. La icografia è classica perché vediamo la spiga di grano, il grappolo 2, quindi il pane e il vino, il volo delle colombe. E qui ha il parroco in talare con il breviario e vediamo queste case sparse, questi appezzamenti di terreno a testimonianza di un magistero svolto con grande attenzione. Dal parroco a cui è donato. Su cosa incideva gli incisori? Questa è una fototranciatura che mi hanno spiegato, è una foto incisione. Invece queste qua sono punte secche. Punte secche. Bene. Va bene, abbiamo raccontato anche questa storia particolare all'interno di un campo, la dicitura esatta è campo di concentramento. Campo di concentramento. Campo di concentramento. E questo ha creato pochi problemi, ha creato pochi problemi non solo per cimiterle, perché io per esempio quando incontro molti ragazzi mi dicono ma c'erano le camere a gas? Ah esatto. Ecco perché c'è questa poi impropria comparazione con Auschwitz e allora è questa depotenza, demotiva, insomma il disvalore intrinseco ai campi di internamento. Certo. Ecco perché c'è questo urlo di Munch che porta l'afonia a tutte le altre realtà. Va bene. Allora io ringrazio tantissimo Giuseppe Graziani, Peppe Graziani per essere stato qui questa mattina con noi per aver, come dire, aperto anche questo ricordo che faremo noi di questo momento doloroso della storia del mondo, insomma non dell'Italia ma della storia del mondo, con quello che è successo con la Shoah, con i campi di sterminio. Grazie, grazie. Di concentramento di Civitella del Tronto. Morì a Unterlus dove era stato fatto prigioniero e ristretto poi in questo campo di concentramento Alberto Pepe e poi avremo con noi anche Walter De Berardinis che è un altro cultore della storia locale proprio legata al periodo delle due guerre, in questo caso al periodo della Seconda Guerra Mondiale. Bene, è davvero tutto. Grazie, grazie a tutti voi. Di prima mattina torna domani con Dorote e Mazzetta, sempre alle 7. Grazie, arrivederci.